Padre Marinel, voi state vivendo un momento di disagio a causa di questa emergenza sicurezza che riguarda anche, nella quale spesso si fa il nome dei romeni. Ecco, purtroppo è una situazione un po' difficile per noi, una situazione che questo disagio lo viviamo a causa di tutti questi fenomeni che purtroppo i nostri connazionali li stanno commettendo. Noi come comunità, come associazioni, credo a nome di tutti i romeni che sono qui a Bologna ed Emilia Romagna ma anche in Italia ci dissociamo in modo forte, diciamo molto categorico di tutti questi fatti e nello stesso tempo invitiamo tutte le comunità romene, tutte le chiese, quella ortodossa, romano-cattolica, greco-cattolica quelle evangeliche romene di impegnarsi un pochino di più per la riscoperta di tutti i valori cristiani perché come romeni, dopo un periodo molto lungo sotto il comunismo, purtroppo abbiamo perso dei valori importanti stiamo guardando con molto interesse alla chiesa cattolica italiana e vogliamo che D'Aleppo apprendere tutti questi valori cristiani e così invitiamo tutti i nostri fratelli romeni per, diciamo, cominciare a riscoprire questi valori della vita valori della fede, dell'amore reciproco, nonostante tutte le differenze tra culti, nonostante tutte le differenze perché in questo senso tanto la Caritas di Bologna quanto l'Archidioces di Bologna e tutta l'Emilia Romagna e tutta l'Italia direi ci sta dando una mano grandissima, ci sta vedendo come si potrebbe convivere insieme condividendo i valori di fede cristiana. Invito ai nostri fratelli romeni di rispettare le leggi, rispettare tutti i cittadini italiani e i valori che siamo come ospiti, loro cercevano nel loro paese per poter vivere una vita migliore, rispettare la loro cultura, rispettare i loro valori. ecodese mi permette una in lingua romana nostra con cittadinii. Dragi romanii, vă invit pe toți ca să trăim în pace cu frații noștri italiani, ca să putem să trăim împreună. Unitatea ne ajută ca să depășim aceste momente dificile și vă invit ca să vă desociați de toți cei care fac fapte atât de urâte. Înainte de toate putem să le facem acest lucru prin rugăciune. Vă invit să vizitați bisericile românești, vă invit să vizitați bisericile italiane astfel încât Harul Domnului nostru Iisus Hristos, rugăciunile Fecioarei Maria să ne ajute să putem să fim împreună uniți și să ne ajutăm unul pe altul.